È arrivato il 16 giugno, è arrivato il fatidico giorno dell'esame di Stato, dell'esame di maturità per il secondo anno rivisitato e per esigenze di pandemia, soltanto una giornata di colloqui orali. Qui ci troviamo al campus scolastico di Pesaro, davanti all'Iceo Marconi, dove si stanno susseguendo diversi episodi. C'è chi esce dall'esame appena sostenuto e può finalmente concedersi alle vacanze. Ci sono i tanti familiari che aspettano con tutti i festeggiamenti di rito. Questa era la prima giornata, ogni giorno ogni commissione d'esame prevede 5 colloqui orali al massimo per commissione. Sono circa 3.000 gli studenti di Pesaro impegnati in questo esame di Stato. Ne abbiamo ascoltati alcuni qui al Marconi all'uscita dopo l'esame sostenuto. È stata tutta quella preoccupazione che l'accompagna era giustificata oppure è stato qualcosa di più semplice del previsto? Un po' mi ha aiutato, devo dire, perché mi ha aiutato ad affrontare l'esame in modo abbastanza fiducioso nella mia riuscita. I prof comunque mi hanno aiutato ed è andato tutto bene, tutto liscio. Ecco, per noi che veniamo dalla formula d'esame classica con gli iscritti all'orali, spiegaci un po' meglio come è strutturato questa sessione d'esame. Allora, l'esame prevede soltanto una prova orale dove nella prima parte viene esposto l'elaborato preparato da ogni studente, c'è una seconda prova di italiano e la terza prova invece è strutturata dallo stesso studente facendo dei collegamenti con le altre materie. Ci si fanno tante aspettative prima dell'esame, è stato quello che ti aspettavi, più complicato o meno complicato? Tutte e due, diciamo alcune domande inaspettate però semplice, ho dormito un'ora questa notte però bene bene bene. Siamo tolti un bel peso dalle spalle? Sì, è un gran bel peso anche quando ho saputo di essere il primo, insomma il primo giorno è stato diciamo, inizialmente ero spaventato però alla fine è meglio così, mi sono tolto il dente subito e penso sia la cosa migliore dai. È stato più semplice del previsto e tante volte uno pensa che sia difficile però alla fine si risolve tutto semplice però è stato comunque penso una prova giusta ed equilibrata con l'anno che abbiamo passato e sono stato contento di aver potuto dare una prova quasi normale dopo insomma tutto il tempo che si è perso con lockdown e che non abbiamo potuto diciamo vivere l'ambiente della scuola come come volevamo però siamo riusciti a fare questi tre mesi un esame quasi normale quindi di quello sono molto felice. Adesso aspettiamo l'esito e è passato veloce, credevo peggio. È stato un po' più difficile secondo me rispetto agli altri anni, non tanto l'esame ma l'anno in sé per sé perché c'è stato un po' di casino, inizialmente eravamo tutti a casa poi metà casa metà scuola e alla fine tutti a scuola quindi c'è stato un po' andare i vieni e ha un po' scombussolato la preparazione però si è fatto quel che è il massimo. Grazie.